coronavirus in trentino settimo giorno consecutivo senza decessi ma ci sono due nuovi positivi a fronte di 1229 tamponi nessun morto ma quattro contagi in alto adige riparti trentino 1200 domande in quattro ore ma tanti intoppi e problemi con il sito guesti perché questa procedura complicata e non si è seguito l'esempio nazionale quattro alloggi gratis a luserna il pagamento in attività di volontariato per la comunità il bando a scadenza il 3 agosto prossimo del rivolto nello specifico a quattro giovani nuclei familiari con o senza figli a 22 l'incidente tra i tre tir è spaventoso ma i camionisti escono miracolosamente quasi illesi in azione oltre 100 soccorritori e un drone sbanda in curva tocca un muretto con l'auto e russola nel sarca grave incidente nelle giudicarie per un 82 n 730 online è il servizio offerto da caffacli per fare la dichiarazione dei redditi quest'anno puoi fotografare i tuoi documenti con il cellulare e consegnarli all'esperto fiscale comodamente da casa tua non devi compilare nessun modulo non c'è nessun calcolo da fare quindi non puoi fare errori prova la novità l'iscrizione costa solo un euro 730 online di caffacli incredibili vantaggi in un'unica soluzione www.il730.online www.il730.online